Mettimi in ordine Lautaro, Mbappé e Oland. Primo Lautaro, secondo Mbappé, terzo Oland. Ronaldo, Vieri, Milito. Ronaldo il fenomeno. Ronaldo primo, Vieri e Milito. Attento qua. Turam, Cannavaro, Nesta. Turam primo, Cannavaro secondo, Nesta terzo. Mondiali, Champions League, pallone d'oro. Mondiali, Champions League, pallone d'oro. Questo è difficile, attento. Kepren Turam, Marcus Turam, Lilian Turam. Kepren Turam, Lilian Turam, Marcus Turam. Primo tu? No, primo Kepren. Ah, ok.